Salve a tutti i Blazers e benvenuti in questo nuovo video di Marder. Oggi in mia compagnia ci saranno Marcetina e insieme ci trolleremo e trolleremo gli altri partecipanti del gioco. Ma ricordate, la regola principale è che quando io sarò l'assassino, il cappuccio andrà sopra la mia testa e mi coprirà gli occhi, perché sarò un tipo losco e ucciderò tutti e lo farò per voi. Quindi state pronti perché ne vedrete delle belle in questa nuova puntata di Marder. Ok, aspettate un momento, voglio andare subitissimo nel posto segreto del mondo, dell'universo e oltre. Ma come si fa a entrare in quel posto giù? Camperiamoci tutti lì e vada via i chap. E vieni, venite dai. E ma vorrei almeno una zappa. Non ci interessa la tua zappa di merdo. Non è che se Marcetina lo dici così, venite subito, vuol dire che ci nascondi qualcosa. Nel tasto cercherò di prendere gli esmeraldi, poi torno in quel posto lì. C'è il rosso, regà? Il rosso mi fa, mi ha fatto paura, mi ha fatto paura. Perché io sono blue blaze, ma in realtà sono gialla? Anch'io sono blue firejack, ma sono verde. Qualcuno di voi? Io sono blue firejack. Boh, vabbè, mi sa che non eravate voi. È uno schianto gravitazionale. Eh! Ci sono due morti. Io torno indietro. Dove? Nel passaggio sotto. Ma sì, oddio, allora è uno dei... Oh, è il grigio o il rosso? Io quelli due l'ho visto, però non ho... No, 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 erano a terra, erano. Il grigio e il rosso proprio? Sì, no, io non vado di là. Sti cazzi, esco da questa parte e c'è. Oh, raga, ho trovato uno smerato, finalmente. Ci siete? Ah, ecco il team Marti. Però non so se fidarmi di voi due. Io non ho quattro. Sono buoni. Vabbè, raga, io... Mi fido di voi. No, mi stai seguendo quello rosso. Ciao, no, sono io, sono io. Andiamo sul tetto. Rifugiamoci tutti sul tetto. Sei Marci? Ma qualcuno ha un'arma? Ciao, Marci. Siamo io. E no, io no. Vabbè, ci protegge Marci, fanculo. Io mi campero qua. E via. Vabbè, senti, vado a prendermi, vado a prendermi la... Tu scherzato, Simo. Dai, andiamo nell'angolino. Andiamo tutti nella casetta, scusa. No, ma c'è l'angolino tipo qui sotto, il balcone. Ma scusa, qua non ci becca più. Puoi passare da qua. Qua. Raga, il viola... Lo sapevo. Io sai perché non l'ho chillato, Marci? Perché sennò si sarebbe arrabbiato se non fosse stato il marci. Aspetta che... Vabbè, non ho il cappuccio. Ho la felpa in testa a casa. No, no. Non vale. Non sai marci se non hai il cappuccio. Ehi, va bene, toh. Che vergogna. Io lo sapevo di non dovermi fidare. Si può vivere così. Eccolo. Veramente, guarda, è stato devastante che diamine. Spero che fosse lui. Così l'ho ucciso. No, non è lui. Sei proprio un glande. Un glande, glande. Sei proprio un glande. Ma smetti. Eh, sono un glande. Sei un glande. Io scrivo chi è vivo. Io. Io. Mi rispondono anche. Puoi scrivergli tipo dove sei? No, no, non voglio. Dai, ti prego, prova almeno con una persona dove sei che ci rifugiamo assieme. Ci rifugiamo assieme. Stammi lontano, Marder. Non ci credo che ne sono. Io. Io. Tutti che scrivo lì. Non ci voglio credere. Ho la zappa. Allora è izzi izdi. Perché anche io. Non ci credo. Aspetta. Allora sarà izzi. Izzi izdi izdi. Uccidiamo izzi. Secondo me è il Marder. Oh, ho trovato uno smeraldo. Ho trovato uno smeraldo. Volevo fare la finta che ho visto un cadavere, ma tanto voi siete già morti, cazzo mene. No, la zappa. Ops. 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 Ma chi c'è vivo? C'è un quarto. C'è solo quelli. Aspetta, aspetta. No, perché sto avviando, sto avviando Twitch? E c'è Feotto, tipo. E' Blue Play, mi seguo, ho detto uno a caso. Ma sono io Blue Play, tra l'altro. Fa niente, ma che cazzo mene, lui non lo sa. Dai. Scrivi, scrivi, no. Scrivi no, così basta. Dai, vai. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, il troll, mamma mia, lol, lol, lol. Che noia 0402. Oddio. Perché è una giocata? Che noia 0402. Ma che cazzo sta... Ho chillato che noia, ho chillato. Ho chillato due che noia, ragazzi, ho reso il mondo due volte migliore, yeee. Io mangio biscotti, regà. Questa volta mettiamolo bene il cappuccio. Non mi han sentito meglio. No, mi han sentito meglio. Così, eh, non ve lo dico l'altra volta. Ho detto che si è messo il cappuccio. Però io... No, non ho mai detto questo. Mi ha ucciso. Dai! Ma perché sparano? Mi ha ucciso. Che poi è il bello che, prima di fare la partita, si scrive, ma smettetela di uccidere a caso le persone. Sì, sì, va bene, scusate. Poi in partita sparano. Va bene. Va bene, ma... L'ho ucciso l'assassino. Guarda! Stanno sparando ancora. Ah, ma è l'assassino. L'assassino era... Sì. Ah, era l'assassino. Eh, infatti, ecco perché. Vi ho ucciso tutti e due? No, non credo sia era. Vi ho ucciso tutti e due? Non credo sia era. Vabbè, dai, li ho uccisi tutti e due, ragazzi. Possiamo divertirci. Allora. Devo prendere degli smeraldi, così cambiamo identità. Ma dove non è? Ma quanto cazzo sta sparando sto tizio? Ho visto che siamo morti tutti e due. Come ti chiami? Sta sparando così tanto che non riesco neanche a fingere di essere io. Cioè... Ma vai a cagare! Tu, smettila di sparare! Ti prendo schiaffi! Ecco. Non si gioca così. Ok. Eren, maestro, insegnami a giocare come te. Ok. Ok. Vidi ok. Uccidete... Tablux. Aspetta, aspetta, aspetta. Volta 302 che adesso dice un nome a caso e sono io, vai. No, ho detto uccidete Tablux. Ah, ok, no. Meno male che non sono io per una volta. Tu sei... Crafty Garrett. No, non sono io. Sono già scoperto il marzo, ti dicono. Ma... Ho sentito sparare. Lo stavi per dire chi ero. Crafty Garrett. L'avevi praticamente dai a toh e poi sono fermato. Ma non ci sono smeragli? Non ci sono smeragli per... Ah, ma è lì il cadavere. Quindi è passato di qui il Mada. Mada? Il Mada. Mada? Hanno ucciso Zeppek. Io sono tutti quasi nascosti qua, ragazzi. Madonna, ma donna, quante vittime. E dove l'avevo trovato un'altra? Il rosso sta nascosto. Il cadavere, qui, aiuto. E sta nascosto il rosso? C'era il fucsio. Allora. No, non mi uccidere, ti prego. Ok. E qui l'hanno messo? No. Eccolo! Punto sgamato! E il teabag, e il teabag con tanto di salto. Yeah, ti teabago tutto. Non può cucciare la bussina di che... Questa mappa però mi piace un botto. Questa mappa è inquietante. Ok. Io sono... Io sono Tommy, per favore non killatemi. Adesso scrivo in chat, è Tommy. Se lo scrivi sappi che mi killano. Guarda, secondo me non sei Tony... Tony, Tommy. Però ci derò Great 8. No, sono io, Grottantotto. Non ci credo. Eh sì, eh. Grottantotto. No! Pure in capture, ho scritto. Non so perché. Ce n'è uno fermo, regala, che mi fa paura. Ero io fermo, Marci. Stavo scrivendo. Ah, infatti mi hai lasciato tre. Dai, immettile. No, 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 no. Ma dai, me ne mancano due. Non far la merda. Ehi, ma tre ne hai lasciate sul tuo cammino. Dai. Non ne vi è, sono spawnati dopo. Ne ho tre in mano. Eccolo al quinto. Ciao. No, 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 no. Ciao a tutti, sono Marci. Ma basta fare la lizza. Quello non l'ho scritto io. Dai, basta rubarmi gli smeraldi, odiosi. Ora, Zappa, adesso nessuno può sospettare di me. Io vado a prendere lo smeraldino lì. È Tartle. È Tartle. Ma sono io Tartle. Tardo. Tartle, Tardo. Tardo, Tardo. Basta! Mi senti che dicono che sei tu. Eren? Eren? Se mi sparano, bestemmio i marci, bestemmio. Mi stanno sparando, managgia te. It's luce. Sono io che ti sto sparando. Ragazzi, it's luce. È luce, è luce. Toh. Ho la zappa. Siamo noi tre, ragazzi. Siamo noi tre. Ho la zappa. Oh, la cherenci. Oh, Martina. Attenzione. Cosa succede? È successo. Guarda che squadra di anti-eroi che siamo. Uè. Perché spari a caso? Mi sa che l'ho visto, raga. Però io Tommy. No. Non ci credo. Così è morto senza che nessuno sapesse la sua storia. Raga, potremmo fare anche noi un murder uno di fianco all'altro? Tipo un nann. Sai che figata? Raga, l'ho già visto. E anch'io. No, non è vero. No, io l'ho visto perché ho tirato fuori la spada. Polarize Sof. Così di cattiveria. Ma cosa? Sono io Polarize Sof? Ok, scriviamolo. It's Polarize Sof. Scrivilo anche tu. Yeah, il primo smerad. Raga, ma chi è che spacca le finestre? Ma siete pazzi siete? It's Polarize Sof. Ho la zappa. Va bene. Ma ti ha visto la spada, ha detto. Ma io l'ho ucciso! Ah, è vero. Era l'assassino anche perché mi ha ucciso. È friale, è vero l'assassino. È friale, sì. Cioè, da quel capito, sì. Non lo so, mi è sembrato di capir di sì. Raga, è friale o no? Perché io non so. Mi sembra di capir di sì. A parte che si lagga. A parte che ho due smeraldi, quindi non potrei mancocchillare. E anche io ne ho due adesso. No, tre. Tre adesso. Allora. Tre. What is love? Tre smeraldi, raga. You don't hurt me. You don't hurt me. No more. What is love? È uno smeraldoi. Raga, questa partita è tesa. What is love? Io sono Craig, Craig, man. Beh, no. Qua è Craig, man. Alza, Willy. Che c'è messa. No, stavo facendo una strage devastante, stavo facendo. Era Simo. Stavo facendo una strage devastante, stavo. C'è una devine. Eccolo. Oh, c'è una weapon, raga. Mi va bene anche la weapon. Raga, io faccio una teccata. Il primo che vedo l'ottillo. Il nero. Sparo a vista. Siete pronti? Siete pronti, raga? Siete pronti? Dobbiamo già chiamare che è... It's cooking. Cookie King. L'hai scritto te, l'hai scritto? Sì. È ovvio che l'hai scritto te. Siete pronti? Ho detto. È cookie king. È la mia previsione. La mia previsione. Grande Marcello, ti stimo un sacco. Raga, non chillate innocenti. Oddio, è re nel messaggio privato. Come fa a sapere che sono qua, cioè... Aspetta. Raga, è cookie veramente, mi sa. Mi sa che è cookie veramente, raga. Non so se chillarlo bene. Ho trovato una pista di cadaveri. C'è un'arma. Silenzio. Ma basta uccidere innocenti, marcello. Eh, vabbè. C'è il genio di turno che uccide tutti. Complimenti. Eh, raga, è passato di fianco, c'è un cadavere, scusate. Ed è anche Marci. Ma scusate, ma... Gino all'angolo c'è un cadavere, non era lui? Per par condicio dovrei insultarti. Eh, insultami, è giusto così. Di là. Ma ragazzi... Io li killo queste, se si avvicinano. Eh, che cavolo! L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. L'ho visto. Andiamo a stare scuccidati. E il teabag ci vuole. L'hai ucciso te? Sì. Ma è un prigione, comunque. Mi hai tolto la kill, mi hai tolto. Volevi partire alla Air Embrace di Cattiveria? Mi sa che sei tu, erano. Ma in realtà non era veramente air. Non so di chi era nel Marder. Sì, sì, mi sto già mettendo il cappuccio, guarda. Wow, che caldo. È free alley. È free alley. Ma basta sto free alley, raga. Raga, è free alley. No, è Tommy. È Tommy. No, raga, è Armani. È Armani. Ma che... Ma che stai dicendo, Armani? Raga, è proprio la skin d'assassino, comunque. Tu sei Fitch. Esatto. Immaginavo. E ancora un'altra... No. Raga, c'è un cadaverino qua. Chi sei te, eh? Io sono Ollid. Eh, grazie. Era uno di quelli che avevo menzionato prima, Marti. Dammi solo su. Non mi ricordo neanche che hai menzionato prima. Io ho detto Tommy e free alley. Boh. Dammi un può essere. Non so chi sia, raga. Non so che c'è, un può essere. Ah, chiedete con te o no? Ah no, ok. Grazie, mi hai tolto almeno due persone. Papà. Ciao, Sparkles. È Sparkles? Non lo so, raga. Io mi sto andando. Raga, sono un'ansia pazzesca. Pazzesca. Ma i vetri li posso spaccare a mani nude, raga. Non ho ancora trovato la zappa. Ah sì! Ah no, non li ho spaccati io, no? Marti, sprint and naff, naff. Ho paura di killarlo. Che sprint and naff? Non è lui, raga, però ho paura di killarlo. No. Non è lui. Io mi fido. Oh, uno smeraldo. Ma come lo scrivono, poi? Raga, per me era veramente quello lì, quello che dicevo io. Il Tommy? No. Ma no, non è vero. Raga, ma la gente che mi scrive di fare screen mentre sono in partita, come faccio a fare screen? Anche se potessi, non sono io in questo momento. Raga, abbiamo tutti la zappa tranne un paio, credo. No, raga, io non ce l'ho ancora la zappa. Fate le cacche subito. No, ho chiedato una. Ecco. Eh, raga, eravamo tutti con la... Eh, adesso succederà la stessa cosa. Sei tu? Cosa? Sono io, sono io. Ciao, Marci. Dai, oh, aiutatemi a... No, aiutatemi a trovare gli smeraldi. Dai, mi fate le cacche. No, Eran, sei il marder, ti killo. No, non sono... Eran, ti killo. Spero di non rovinarti la partita. Non sono il marder. Guarda, ne ho trovato un altro. L'ultimo. L'ultimo. Dammi un cello, mamma. Raga, l'ultimo. Raga, ho... Oh, no, sto dicendo una cavolata. Sono... Sono molto veloce. Raga, ho la web. Go to go fast. Go to go fast. Ma che mappa è, raga? Non mi uccidere, Norty. Ma che mappa è, raga? È nuova, sta mappa. Ma cos'è nuova? È la solita, dove piove, dove la pioggia lava via il sangue delle vittime. Non sono mai stato. Sono fuori proprio, dove si vede la pioggia. Ma te sei fuori di testa, è diverso. Poi siete mai venuti qua? Dove? Sono fuori dove c'è del vetro in alto. Come te. Non siete mai stati qua. Aspetta, forse arrivo. No, non lo so se sei qui, però. Proviamo. Spero tu sia qui, nel caso... Non ti arrabbiare se ti killo, eh. No, non chi voglio vederlo? Dai, dove? Dai, Marci, dov'è? Ma ci sta tirando a sé come falene al fuoco. Ci vuole uccidere. Io voglio vederlo, dove? Allora, aspettate. Cerco di venire in qualche... Sono nelle tubature. Non so come si torna lì, raga. Allora, Marci, io vengo, però ho la zappa in mano e ti dico che ti sparo a vista. C'è un quadro, ok? E dico anche chi è il Marder. Ma no, ma sono le fognature, raga. Oddio, raga, ho visto dove sono. Ok? Chi sei te, Aaron? Ti dico dove sono, almeno. Eh, dove sei tu? Di Forest Edge? No. Sei l'azzurrino, Aaron? No. Dimmi chi sei. Non te lo dico, non mi fido. Io sono il... Non mi fido di nessuno di voi. Io uccido l'occhio del... Eccolo! Raga, ha tirato fuori la spada... Ma ha tirato di fuori la spada di fronte a me. Faccia a faccia ho tirato fuori la spada. Quindi, ragazzi, questo era il Marder della settimana. Spero vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like. Passate, come sempre, dal canale degli altri, perché troverete video di Marder ovunque. Quindi passate. Vi saluto. Ci vediamo domani con nuovi video. Un saluto da Aaron Blaze. Ciao a tutti. Ciao a tutti.